da ringraziare siamo già online ringraziamo max the one che è la scheleton arc grazie due mesi di subscribe entrambi vi vogliamo sbacciucchiare tutti ecco loro tra poco riceveranno il video in anteprima perché non hanno fatto la sub ora aspetta collego il pad che altrimenti non è un casino ciao corvo non partire molto bene occhio molto molto più subito all'audio perché sarà fortissimo all'inizio stasera me la sento ce l'hai ce l'hai se la sente questa sera dovete rinnovare fatelo oggi perché stasera non lo rimanderemo altre volte non lo rimanderemo in altro grazie aspetta che ti devo alzare un po perché sei bassino perché ti devi alzare tu marchi sei basso ma lascia lo basta che tanto rompe le ball sono anche nella vita vera personcine è la prima live serale che faccio dopo la cartoon il video arriva come mail tramite mail messaggio qua privato l'email ovviamente con quella che vi siete iscritti grazie mille per sonic adesso se riuscite entrate voi perché è un casino di dare più d'annenza sali grazie grazie mille sali 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 con cosa iniziamo iniziamo con la prima mappa Adesso vi invito Adesso vi invito State calmi State calmi vi dico Daniele Nessun journey gamer ha fatto vedere Albex Donazione di 3 euro Buona serata e buona live tesorini Siete fantastici soprattutto roti No Dilla Dilla Chi è che mi hai invitato Ma lo sai Ah però non si è unito Anche tu Avete fatto vedere cosa mi ha regalato Finch Io l'ho fatto vedere in entrambi i video Nessuno dei due l'ha messo Lo so perché non c'è avuto tanto Dovevo tagliare un po' e iniziava ad essere troppo lungo Per quello 20 minuti è troppo lungo Finch però ci ha fatto i regali più azzeccati della storia Madò Sì sì No è vero è vero Hai stato bravo Anzi Sai cosa Moro Continuo Io gioco Con il randomico oggi Va bene Oggi gioco con il randomico Io non lo so Anche la sua casuale Perché sono scarso Quindi posso Io vado di Ciao Ciao Mariam Ciao Mariam Ciao Mariam Ciao Mariam Ciao Mariam Cosa sera È fatta Siamo già a Berlino È fatta Ecco di qua Comaz Il cane che guarda le sale Eccoti qua Grandissimo Ti abbraccio fortissimo Comaz Ciao la zona Peggia Grazie peggia Grazie mille Peggia Guarda se hai in twitter scrivimi anche in privato su twitter così ogni tanto me lo ricordo Sì comunque Finch dove sei eh? Stai entrando che ti faccio un culo grande come una casa? Un bico Mamma mia Aspetta che lo invito io facciamo prima Invitalo invitalo Ciao Aleigh Dovrei averlo Finch Ecco qua Invita Vediamo Vediamo Today is the day Abigale Today is the day Perché ieri ho mangiato delle Doritos io Nooo E infatti ieri siamo arrivati a Siamo arrivati ottavi in H1Z1 È una cosa incredibile Funzionano davvero Ok forse c'è Dai un posto c'è Dai un posto Questa sera team mark Team mark Ma che team mark di stamento Questa sera team mark Verty Non c'è ancora un posto Sara e Mario Vabbè io invito la gente Questa in senso Questa go fast Va bene grazie Ricordiamo Sara deve stare Va bene Infatti non la sento parlare Sì oggi sarà La prossima Jules Jules Anzi La prossima Esatto La prossima sessione Pathfinder è domenica Infatti io diventerò pazzo Perché domenica pomeriggio C'è la sessione con i termos E domenica sera Faccio la sessione In cui io gioco Hai voluto la bicicletta E ora No Marcelino Non farlo Ti ho scritto che ti fa corvo No no Non si fa Io ho vinto già Io ho vinto Io no Ragazzi ragazzi Questa sera Adesso Per favore anche tu Non puoi completare Stasera con me Non puoi completare Eeeh Hai in occhio Eh Puoi multare mark Ma davvero Ma infatti perché gli ho rimesso L'audio recente Io sono il car Sono un car armato E Andre tv Cazzo sì Per 3 mila Quindi c'ha il Faleo Ricordatevi stasera Di guardare nella vostra E-mail Privato Che cazzo Spingete stronzi Aia Marco Ti preoccupare Moro stasera E la sera Oh mio dio Sono primo Questi sono i 10 secondi più belli della mia vita Yeah Aia bastardi Aia Eh vabbè Stasera Sei rimasto spezzato Io si Tieni Marco Grazie mille Grazie mille Che cazzo Ti ho anche sbattuto Ma vaffanculo Non vedo E' not primo Adesso è il momento Sono primo Che ci sono io primo No no sono io primo Questa sera Questa sera Vi decidete Alcuna ti porterà fortuna Eh Ah questa è vero Questa è una caratterizzazione E' molto corta Sì Bravo Marco Allora c'è Gattachiss Che raggiunge il secondo mese Di subs Aia bastardi Grazie mille Grazie mille Gattachiss Grazie 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 Allora Avete rotto Sono decimo Benissimo Ah mi sono schiacciato Che cazzo Le vasole Ma dai ma sono sesto Ero secondo un attimo fa Che parlo Sono decimo Ero terzo Va bene così Dai Ma questa sera Vabbè Vabbè che botta E insomma Dicevo sul fatto Di fare i culi Ma adesso Sono settimo Tanto adesso Ti recupero Un attimino Quanto derrapage Avevo il pedi scivoloso E' notte Pastrami Vieni qui Cacchio Avete fatto di colpirmi Bastardi Sono diventato Una supposta Ma bastronzi Sono settimo Finci davanti Sono io settimo Sono nono Sono decimo Adesso si Comunque scherzavo Prima Ma la prima E' sempre di allenamento Ma io scherzavo Per riprendersi Un attimo Le dita Ma allora Quanta roba Quanta roba Mi sta colpendo In continuo Quanto sei Sono sempre primo Ma Faccio i culi Faccio i culi Però Ne hanno colpito Quattro volte di fila Ma non vi preoccupate Mamma mia Con il generale Inverno Col cararmazzo Non faccio il culo Non mi rivolto Ma è che fallo Ve l'avevo detto Ve l'avevo detto Sono arrivato Chi era Ti dici Ah Fa il culo Ti dici Chi è Chi è Chi è Chi è Questa sera La mia sera Stasera la luna Ci porterà fortuna La luna Chiedo scusa Che barazzo Ma Cazzo Ciao Exime Ciao Exime Palla che ci mette Di più A fare la cosa finale Che la gara intera Ma davvero La vedi Va bene Incredibile Buonasera E si è diventata Pluri maschio Pluri Parti subito Parti Cambio mappo Cambio mappo Cambio mappo Refresh La zanna Grazie mille Quattro mesi Grazie Dragon Canyon Che non lo facciamo tanto Ah c'è Vertian Che dice che può giocare Fino alle 20 e 30 Magari Fate entrare Vertian Dai Quanto tenge Un posto Ti c'è 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 Infatti invita Vertian Vediamo No Pierpollo Vabbè No Pierpollo No è entrata adesso Ti c'è No anche Pierpollo C'era prima Tutti quelli che hanno Un punteggio Ci sono Ma comunque dopo gli entrati Lo sapete che verso la fine Poi teniamo quelli che ci c'è Nel senso No no Alessandro Non è colpa mia Se loro non sanno giocare Eh Sì Cioè io devo rallentare Perché loro non sanno giocare Non ho capito Sì Mica siamo su GTA qua Qua comando io Ma questa è casa mia Adesso goditi il primato Guarda ti voglio sapere Quanto buono formaggio Colla Vere Io ho invitato Vertian Cioè Vertian Vertian Pronto Eccolo lì Eccolo Bene 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 Ma mi si blocca l'app di Twitch Dai dai Ciao Cristina Cercate di entrare ragazzi Hai visto Oh Chuck Un pochino che c'è Che non c'è Volevo dire Ah si la gente c'è Che non c'è No in realtà Io quindi non l'ho letta Perché non la vedevo Che combina quella cacca Grazie Taichi Figurati Figurati Vabbè Ti invito Un po' di gente Che ho buona Non Non è vero Ciao 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 Ho visto Fastlane Ho visto come al solito Gli highlights Eh si Star Wars Hai laggato Adesso la posizione Non te la dico Perché non abbiamo Tempo Sono arrivato tra i primi Comunque Si Con tre punti Eric Oser Deci Decimo Ottavo Ottavo Ma ho detto che non vale La prima Che anche Gerry Scotti Si Gestar Gestapo Gestapo Ti voglio bene lo stesso Cristina Ti voglio bene lo stesso Cristina Vabbè Pierpollo se vuoi puoi rientrare Pierpollo se vuoi puoi rientrare Star Wars c'è anche Ciao Gabbo Team Gerry Scotti Team Gerry Scotti Comunque io stasera ti fa porca Milla Il cazzo di personaggio ha preso Gerry Scotti tra l'altro Collega di cosa Moro Ma mi prende qualcosa Moro Che personaggio è Gerry Scotti Eeeh E' un po' grasso E' un po' grasso E' un personaggio grasso esatto Si Io sono Non so Che personaggio è No Tu sei E' un po' Qualcosa che non fa l'applicazione di Twitch Solo a me No a me funziona da Dio Non mi clicca le cose Ehm Faccio partire ragazzi Dai Vai tanto uno in meno Un cambiamento Uno più Uno in meno Adesso vince il bot Fortissimo Infatti sono arrivato tra i top 10 Ma i not queste cose Non le apprezza di me Ma io apprezzo sempre di te Hai finito la gara A differenza Cioè Rispetto Rispetto a come giochiamo normalmente Su GTA Qua finiamo le gare Cristina Tifa Moro Bravo Anche se stasera Io te lo dico Cristina Io me la sento bene Ma che fai Ti fa me 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 La prossima In due sono crashati Cosa sono un romano Dai Ti fa me Perché sono un romano Sono un romano E sono partito lento lento Che cazzo Sono già decimo Sono già decimo Perfetto E vati Corvo Usa via Ma guarda te Ma guarda te Finostri Vica i loro Comunque quei due utilizzano Aia Robe che non ho mai visto No le macchine sono nuove Ci sono dei boost che agli altri non hanno Aia che botta Mark vieni qua Aspettami Mark dai Non sto da fare Ma no Devo arrivare al pubblico stasera Mi sono annunciato Che figurazzo Ti arrivo Ma aspettami dai La prima va bene Sono arrivato ottavo Dalla seconda Si può sul ceri Minchia che turbo Minchia che turbo Minchia però non vado una sega Ma che spinta Oroti Arrivo che cazzo Arrivo Ma guarda te che col turbo Vado comunque una sega Con sto Ma va Oroti Ma dai ma mi ha dato il giro Sto stronzo Yeah It's magic number All right Grazie Aspetta aspetta Non è solo questa Quante ce ne sono Ce n'è un'altra Anche di Enzo Eh adesso abbiamo finito la gara E te ne de rose Arriviamo Sì le leggiamo Qua finita la gara Star Wars per favore Se mi fai passare Grazie mille Sei passato tu Bravissimo Che dolore Vieni Marco Ma guarda che c'hai not qua Ma affanculo Ma guarda Marco di merda Marco spingi là Spingi là Ma allora Quanti mi devono spingere Eh Perché mi ha spinto così tanto Marco No Non spinge così tanto Madonna Ma tantissimo Mi hai fatto volare Piero Non sta pagando Eh da pagare Piero E mi hanno dei piedi di balsa Che ci dona Ho bagiato Sono al contrario Dov'è andato Marco E sono al contrario ero Guardate i maledetti Salve a tutti i maledetti Allora Quanta roba mi è arrivato addosso Ice Ice baby Sono ottavo Bene così Bene così Bene così Sono quarto Ma che bastardo Che c'è Ti ho scorreggiato addosso Ti ho scorreggiato addosso Qualcuno mi ha fatto del dolore Molto fisico Ma scusa ma sulla mappa Il primo cos'è un cellulare No E' un Gameboy E' un Football Ah no Sì Ma cazzo Ma non mi ha preso il power hop Neanche me È strunz La roba a sto occhio Allora la Star Wars è lentissima Aia vabbè ma basta Aia Dai volevo Mamma mia Addio Moro No 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 non ti ha preso Non ti ha preso Che cazzo Cos'era sta cosa Ma mi ha sfordito completamente Ma sono ottavo Ma ora ti Adesso mi spacchiamo la faccia Anche a forma un pochettino Ma io faccio cagare da solo Ma dai che palle sono al contrario Ah ma si vola Non mi ha Ma mi ha lasciato Ma chi è sto qui sotto di me Ah che palle Il pesce di palle Vedi mi sono vendicato Pesce di palle di balsa Siamo secondo Adedibile Bravi amici Ti fatti No ma c'hai notte Passo Siamo quasi Chi è? Adesso un paio di curve Siamo primi Sto 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 col didò mi hanno davvero hackerato qualcuno ha citato male che c'è cosa avete amici c'è vittorio no io sono primo sei giri la classifica al contrario coran darkhand proprio così a parte leader mi ha superato anche tanto facciamo le donazioni che non vediamo un po sono lady merion che vi lancio questi spicci perché spero vi state divertiti alla cartoon x prima o poi riuscirò a vedervi trovare dei giga e ci contiamo tantissimo noi certo poi dovrebbe dovrebbe arrivarmi uno stipendio dovrebbe quindi ultimi spicci out per voi tra poco il big match e vi dovrò salutare buona sera c'era partito gatto cura viva zuppa di culo junior poi c'è il vitello dei piedi di balsa che dice saluti dal boschetto della mia fantasia con questa canzone è linkato una canzone che è lì non so stanno seguendo rotto per essere menia no no e quindi dai quarto io faccio che allora sarò costante di sancho in sta partita ho battuto in odio che non avrei battuto e notte la domani che ne tirerò con gloria perché vado a cena e quindi con gloria con gloria con gloria manca lei nell'aria foto chiesto quando ero il tuo compleanno ramon il mio ma tutti che hanno capito ho sentito i notte ma si levi ma non bisogna non lo rilinchi quanto lento ho detto che non ho avuto fan culo moro per l'ultimo dai ci siamo ma è lenta emi perché sono la ragazza di marco cosa è un bell'uomo perché sono la signorina emi la ragazza del signor sonic e io volentieri volentieri ma non mi ha dato il turno dietro di corvo dietro di corvo salve salve adesso ti lascio il posto tranquillo perché mi hanno allentato ti caccia le volte che sto prendendo sono sbagliato ora mi è uscita aiutati tumore bo piano che è successo massimo a me sta rallentando gli accennati fuori strada per caso no no erano gli acceleratori perché a me stava andando lento 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 stiamo sbagliato che ho colpito stronzo ma indietrissimo io ho fatto che mi fa un culo moro sono al contrario però ti guarda come spinge mio dio gli devo tirare una una testata nei denti quanto è bastardo sta rusto quanto lagga poi è purto chissà che connessioni c'hanno quelli effettivamente anche io ho visto un missile gigante chiama cattiveria del mondo sulle gambe proprio no 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 ai a beginsat con lo star a ya quante cose colpito quante cose al mondo colpito ingerito nel mio dito inserito in fortress che urlava medic medic il show arrivo ai noti che botte sono decimo ma dai sto facendo delle cazzate la mappa non l'ho capita molto bene dove un attimo prenderci la manica sono decimo lontanissimo e li senta io ci provo ci provo sì non posso arrivare dietro corvo troppo è invece fatto l'ultimo che ho preso non stare anche con lontano sono comunque decimo troppo indietro incredibile quanto la mia macchina non va una sega ma anche la mia non è che penso della mia comunque in scia sono in scia non credo ci sia la scia no non esiste la scia in sto gioco di perdito ma dai le zar bastardo hai detto che eri di scia quanto ma rallentato grazie mille grazie mille grazie mille che si desi desi io c'ho il martellone non vi martello tutte cosa sto dicendo questo ma è desi al martellone ma miglia le ma è vero c'è un martellone che colpisce la gente per me sto Pierpollo fa male alla gente con il tuo enorme pene ma col mio enorme martellone intendevi il cazzo con il martellone cosa è successo quante api però avete ragazzi qua inizia a essere un po' un campuminato te le sei beccato anche tu non può giocare però no è l'agra pare schifio ma vabbè sono ultio e niente fanculo tutti sono vinto e adesso ne hai vinta una oggi e non hai due in verità su tre dai non neanche tanto aia mark non lo so sono finito dietro comunque io quindi mi sei atterrato in testa ma che palle perché mi spiega il pollicione all'insù però sono arrivato primo comunque sono quinto sono quinto non so perché siete felici siete felici io primo ma qui direi a sarà di lasciarmi a me le donne per favore va bene sarà lascia di le donne marco scusa se a sto giro sei rimasto dietro a guardarmi le perga io non ho mai detto che avrei vinto quindi se devi dire le bugie per favore allora per cortesia mai detto che avrei vinto per cortesia mandate il contributo della regia adesso dai io non ho mai detto questa cosa non c'è una veramente ha fatto la clip io non ho mai detto una cosa del genere in chat lo possono testimoniare today is the day non l'ho mai detto mi hai crashato il gioco va bene bene io ho detto che devo andare a cena ci sei ancora mi ritiro con gloria di nuovo mi è venuto forno a prendiamole tutte noi le donne tutte noi le donne ma ma la voglio io sarà allora allora me le bacio tutte baciamocene tutte sarà dirglielo a moda di pensi con quale scusa quindi a me mi spiace il penne a me mi spiace mi ruba farà qui buon proseguimento ciao fd marta io non ho mai detto una cosa del genere vergognati non ho mai detto una cosa del genere io mi sarei vergognato di me stesso fincio guarda mi hai scritto una roba che non dico ad alta voce guarda adesso apro apro instagram aspetto i numeri di telefono anzi guarda lo dico ad alta voce perché ne sono arrivati tre di tre ragazze bellissime che ci seguono grazie mille ma tu non hai avuto il messaggio privato di fincio io sì pronto mi ha scritto mi ha regalato il niente di amazon è una pallina di niente bellissima e mi ha scritto le ho fatto quel regalo perché ho pensato uno che è già bello simpatico famoso un po cretino cosa gli manca nulla con i cuoricini della roba non ho l'intelligenza infatti non ho l'intelligenza mi ha regalato 101 modi di come usare un unicorno vuol dire che mi manca un unicorno eh sì evidentemente ti manca un unicorno anche a me manca un unicorno però come la mettiamo eeeh vedi che ti mancava qualcosa eeeh vieni grazie grazie signor grazie mille entrate però dai entrate dai che vi faccio il culo a tutti ah no l'avevo visto roberto l'avevo visto scusami non mi ricordavo l'avevo già visto si si tra l'altro ricordiamo una cosa che per domani che è un giorno speciale per le donnine noi faremo degli streaming speciali solo per le donnine esatto quindi se siete uomini non potete guardarli no banneremo tutti i maschi che scriveranno in chat esatto no no i maschi li prendo io allora ma sarà? devi preoccuparti forse ma scusami io li voglio bene i maschietti quindi faremo uno streaming solo per le donnine come tutti gli altri giorni per quello mi prendo i maschietti perché tutti gli altri giorni sono sempre le donne un giorno lasciamo i maschietti facciamo il giorno dopo solo per i maschi i giorni gamer facciamo invito gente allora invita ma adesso tipo jerry scotti chi è quel personaggio ha dei personaggi incredibili personaggi incredibili vogliamo le chiappe qua detto abigail non ho visto e comunque chi è in cima mostriamo il culo eh chi è in cima Moro ma tu sei Moro tu sei sottoroti? Moro sei sottoroti? no no che schifo ma noi siamo perennemente tutti nudi durante lo streaming non l'ho visto Ramona io sono senza la mutanda in questo momento si si anch'io anch'io infatti io non riesco a giocare perché via così partenza si e non posso neanche mai ma schietti me li prendo io domani lasciamo le donne a Moro che ne ha bisogno domani Mark solo pene quindi star wars stai zitto stai dai eh che avete barato domani sarà omosessuale per voi cari amici siete come budi siete sono la scimmia che merda di personaggio la scimmia anche io sono una merda di personaggio io sono già decimo? cos'è successo? scusami ma non l'ho visto non mi hai quando me l'hai mandata la Monza ma che cosa? la foto la foto nuda di lei guarda in notte che va è ovvio che di notte è sempre prima a me non ti sono mai colpito mi tirano certi sganassoni che comunque mi girano completamente ahia non viene mai colpito sono il cazzo mori fami passare scusa gli asano e beh vabbè però non sono tanto domani vi faccio uno spogliarello esatto di un altro maschio però che non sono così tanto attraente penso che nessuno di noi fisicamente qui sia preso tanto attraente ho già riscotto tu lo sei fa il culo è vero perché sono passato da qua? non dovevo dovevo farmi da io domani solo per me sei tu? no sono decimo con un distacco incredibile eh io stavo seguendo il primo aliezal poi tu mi hai rallentato io invece farò la giornata di maschietti perché è giusto anche avere un po' di spazio assoluto sbagliato un altro momento visto che bisogna sempre essere gentili uomini con le signorine eh ma perché c'è taggate il profilo di thermos non non lo vedo io lo vede sempre più fa un culo che dici si è quello che mi dispiace del del nostro instagram perché non ci voglio mai districiare eh neanche io da un cazzolino all'altro quindi è meglio ci c'è taggate a noi grazie mille grazie mille gli ezzar ha abbandonato la partita bene bene così io sono comunque nelle ultime posizioni incredibile questa cosa che balle niente settimo non ce la posso fare non ce la posso dare ciao finch il gioco non mi vuole bene che cazzo è successo no vabbè di nuovo finch le palle le palle finch di nuovo mi hai di nuovo hackerato il pc a me l'allstar non me lo danno mica però se un decimo lo danno agli altri non a me purti bastardi eh e i boost ecco l'allstar vedi basta da chiamarlo eh però non va una sega questo allstar quindi ma tutti i allstar tranne me non ho capito eh si ma non ho recuperato niente questo merda di allstar lo faceva a cagare sei tornato? non so il gioco mi boicot però secondo mi boicot sì era secco ciao Mark ciao esatto se guardate il moobot almeno così ci potete taggare nei profili privati che esatto se taggate il profilo di termosifone lo vediamo una volta ogni milioni esatto comunque per chi me l'ha scritto in privato non ho letto il nome scusami Logan è bellissimo per quanto mi riguarda poi Logan è veramente Logan a me è piaciuto davvero un sacco però non diciamo niente quanto non mi piace star no 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 è stato guarda potrei io non amo gli x-men amo Wolverine e probabilmente nella mia top 3 dei film insomma ne faccio del mio è il primo in tutto insieme a Dal non lo so Iron Man 1 probabilmente perchè mi è piaciuto anche Avengers ma sto solo in faccia non vedo una svega vabbè tutto Strange è anche molto bello però non sono affetto al altro personaggio ecco il film è bellissimo non è Wolverine e vabbè quante cose Marco affanculo Marco ultimo film di Hugh Jackman è terzo terzo sono arrivato terzo amici oh adesso vi ribacio tutti in chat e comunque niente che fatica guarda porca paletta comunque si Shailer nel senso che spoglio un altro ragazzo con le mani di un altro però lo spoglio che non li voglio poter si non fai niente stai a svappare mentre fanno tutti gli altri esatto quanto è arrivato hai notte? io a quarto grazie alla monaco ero la scimmia che cazzo significa? eh tutte le scuse era la scimmia la cava a parte che tu mi hai rotto il cazzo stavo per superare Finch mi hai distrutto e poi si è crashato che cazzo significa? che cazzo significa? che cazzo significa? che stronz questo è il vostro spirito in chat il fatto che piano piano con i gomiti sto avanzando di posizione 1 e 1 questa è solfix è solfix 3 ore 13 oggi ritornano i tè buoni nella tazza del cappellaio matto alla menta cappellaio mi ha fatto ridere perchè sono leggermente scurile io nella mia testa leggermente deviato di te si si mi inviti eh no? eh si adesso ti invito non mi apro vabbè è una vittoria diglielo Dark Mark grazie grazie per questo supporto siamo quasi mille ma non mille perchè amici? perchè? perchè? no siamo mille dove sono? a me se io vedo 953 a me è mille esatti 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 quindi se siamo... ce l'avete tutti con me quindi chiamate le vostre zie e ditegli che stiamo facendo no per me è Cristina con l'H fate uno scherzone alle vostre zie e ditegli di seguirci che dopo 10 minuti gli arriva un abbonamento per guardare Carlo Conti all'eredità per sempre anche quando finisce il programma ve lo fa comunque lui ve lo continua a registrare quindi diteglielo ho tirato un pugno al microfono questa è è terra de rose Jimmy il pedofilo cosa? che dona un euro e cinquanta e dice buonasera a tutti ma per le live only women significa che incrocerete i peni e ballerete sulle note di t grazie Abigail a tismagnatela banana banana di leone di lernia che salutiamo poverino cosa saluti non è che cosa vuol dire vai Sara stringimi comunque per entrare in partita basta che ci cercate all'interno del gruppo i termosifoni su steam e fate un'uscita partita da là dovrebbe andare esatto ma da qui mi va grazie Mary grazie Mary che ti fa per me Ramona ti fa per te ma è me? Ramona ti fa per te ah vedi grazie vedi poi io ho Abigail io ho Abigail sai perché Moro perché è bello perché è bello ti fare per quello più scrausetto no? che non ce la fa mai e quindi no fai un po' passione per quello è un po' perena si dice ai notti esatto vabbè passione va bene comunque dove mi strizzi Sara? piano con le mani che stiamo in diretta ma ahia non ho capito dai dai enterate chi vuole enterare dai dai enterate entera entera domani anche per gli uomini sessuali ma certo certo soprattutto per gli uomini sessuali perché se non avete il sesso grazie vuol dire che siete Ken delle Barbie e tu simpatico vai Timoteo che nome biblico cos'è Timoteo? è il nome biblico è giusto è il nome biblico ma no è il nome biblico Timoteo è sì però c'è anche Timoteo può essere anche Timoteo io conoscevo Timoteo ma vedi quanti ti fanno brava George allora dispiace per voi che ti fate riezza ma cosa ero secondo tu c'hai la barbabella Moro? Moro tu c'hai la barbabella? io c'ho la barbabella scusa mi hai curata tu c'hai la barbabella vieni vieni se vuoi che secondo te ci può essere GERGON certo ma guarda che schifo Finch vai a scuola ah che male vai a scuola ah adesso la devi ridonare e scrivere ah ah comunque dice ammetto che ah con l'h sentire Jimmy il pedofilo ho guardato fuori per vedere se al parco qua sotto c'era qualcuno non dovevamo neanche leggere comunque era Timoteo ho visto Moro ti è ti è ombrelli però c'è anche non c'è no Timoteo Timoteo comunque ringrazio il signor GERGON che mi offre una limonata di un'ora proprio con la lingua e un regalino anche a parte io accetto il regalino e la limonata per adesso come se avessi tanto non arrivo primo quindi comunque non ci vuole più bene nessuno allora parti parti entrate adesso però quelli che entrano adesso poi basta non escono più non facciamo una merito sono partito in disappunto tre frappoline allora io ho scritto sta cosa in chat e mi ha trasciato il gioco quindi non ti fatemi più perché faccio schifo di azzaro allora perché tabbi perché tabbi probabilmente non è lo tabbate qual è il problema prima di andarmene bravo dal l'arco ciao becca eh boh forse la connessione allora comunque amici stasera è la sera è la sera delle sere ma sono football sit finch finch l'ha scritto veramente nè da, la figura si intende la fretta vedrete che la prossima vinco sono lento la prossima la vinco vai d'altro fincher penso che neanche sua mamma abbia abbracciato fincher quanto l'ha abbracciato io la cartoon X è vero, era bello abbracciare il team tra le cartoni ho proprio stretto come un... che palle! niente dai facciamo che questa qui non la vinco che non c'ho voglia in realtà questa non c'è voglia eh? anch'io sono ottavo perchè... no 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 sono decimo decimo moro grazie mille grazie mille moro eh scusami ma... è qui ma tu ua uno che ti aspetta tu amaro perchè l'ho fatto? insinutare sonic e me lo chiedo qui come va e arriva la pubblicità ogni minuto? che cazzo sa qui? e non siamo noi ragazzi comunque lo ricordiamo sempre non siamo noi fa un culo roti non ho capito io vibra il telefono stai zitto budi cosa? mi scrive mi fa cadere il telefono ciao budi ti vogliamo bene anche se non sei un mago vero come me ancora sta scrivendo budi allora non sta fermo ti taglio le mani budi ma che palle la scossa elettrificante arca merkel sono decimo comunque è un saluto a tutti i miei fan in chat ne sono partita setto da inizio la minchia ma madonna eh ma troppo non siamo noi ragazzi dopo chiediamo bene per il nostro portafoglio chiediamo chiediamo informazioni a chi e di dove chiediamo ho sentito budi come ha sentito budi ma non è che sono giuro qualcuno ha detto budi allora ultimamente anche se vi crasha un secondo magari voi non ve lo accorgete neanche però per twitch è come se aggiornate la pagina quindi vi parte perché ultimamente appena aggiornate una qualunque pagina di twitch dai che sfiga qualcuno ha investito uno zombie l'ho vista ma io sono ancora decimo niente che imbarazzo che imbarazzo dai vedi a qualcuno anche se non hanno il prime niente non gli ha qualità la velocità quindi boh probabilmente siete anche voi che avete dei micro crash Marco c'hai l'allstars? no no eh no Jules come cazzo è Jules dai a te non parte perché sei sia prime e sia sub da noi quindi ovviamente non ti parte ma poi infatti ma fatevi il cacchio di prime fatevi prime ruban il prime non vi va a vedere pubblicità da nessuna parte di 20 euro all'anno eh vedi all'ingh giustamente dice da 3 mesi che non sa cosa sia perché è da 3 mesi che è sub non perché è sub ma perché è prime no ma è anche sub si grazie all'ingh che bello che ha se sei prime non la vedi da nessuna parte non la vedi da nessuna parte nessuna parte ad all'ingh gli do i colpiti di lingua nel seno aspetta perché sono da terzo eh quanto eh ottavo nono da terzo sono secondo che gioco schifoso sono primo gioco schifoso ora avevi lo star eh oddio anche con la 100 mega si crasha eh si bastano dei micro crash si basta poco e poi purtroppo è anche twitch che ultimamente sta spingendo tanto con le pubblicità scusa pudding mi dispiace no star wars turc non è sub è un mentitore signor star wars turc perchè non è sub anche salito il c guarda te che bastardo dai no ho sbagliato ho sbagliato ahia e niente ho perso tutte le posizioni perchè sei degli stronzi comunque anche io eh stessa cosa no no tu no eh si ero secondo sono ottavo ottavo ma levati signore ma che palle sono settimo ero primo eh ottavo ho sbagliato gioco dell'ostia guarda gioco dell'ostia guarda gioco dell'ostia guarda gioco dell'ostia guarda veramente guarda che gioco fasullo gioco casuale questo qui altro che fifa arcade arcade spettato tutto scritto altro che f*** invitami che devo vincere guarda che ero quarto che devo vincere che devo vincere guarda te che palle e vince va a vincere mi metto il dentifriccio nel naso bastardi a vincere guarda la gente se ne va settimo ottavo no no dai non è possibile davanti al traguardo no 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 scusa marco lì sono stato vicino decimo ero quarto davanti al traguardo decimo no questo è un gioco casuale non ditemi di no è casuale questo gioco eh si che è casuale è una merda ero quarto davanti al traguardo Jerry Scotti della mia fama comunque per chi mi ha tifato avete visto? eh? si adesso no ero stato primo e poi finchè il gioco ha deciso che magicamente dovevo tornarmene negli ultimi posti perchè è così che va la vita in vita mi hai notte guarda che ero già negli ultimi finito eh beh mamma mia ho fatto i culi niente continuo a fare i culi no io le gare ma io devo sparare io nei giochi devo sparare e basta e basta non è che se sparo vado bene se non sparo niente che vuoi si sa fortunato in amore fortunato in amore eh Mark ti abbraccio grazie grazie ti ho invitato? ah si bravo Timoteo grazie 10 al contrario e 0-1 sei primo non fa una grinza non fa non fa ma anche per noi guarda io ragazzi per la mia vittoria siete voi ma quanto ha leccata di culo incredibile mamma mia troppa allora Sonic gioco dell'ostia ho chiuso così faccio partire? vado? ciao mamma di Jules ciao tua figlia fa le canzoni brave eh si la mamma di Jules esatto suona le chitarre piccole eh che carine che carine che sono madonna intanto c'è c'è ProFex che dona due euri e dice visto che domani faccio sei mesi di sub ed è per questo che si dovrebbe festeggiare e mi devi fare il duro vi dico che tra maggio e novembre ci sono sei mesi l'or di quei carretini della alla cartoon chi è che ha ciolato Sonic? comunque non vedo l'ora di rivedervi tutti tanti baci bavosi a voi amici non ho capito la strada di sei mesi ciao Seba ma guarda sarà matto sarà mi è spiaciuto non aver potuto parlare un po' di più in fiera Seba ma era un po' di non ho visto neanche Claire ci ho rimasto anche male io l'ho vista e io no purtroppo io l'ho regalato all'artbook che è qualcosa di magnifico ma bellissimo non lo so guarda chi sono viking 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 Sono già decimo, bene, bene. Io sono trezzo. Eh Moro, io e Liezzar siamo là. Sì, siamo proprio... Il pollo, Dio, c'è una motoretta che fa schifo, ti pareva pezzi di merda. Liezzar, il prossimo lo sai che sei tu? Io sono lo scudino. Sì, ma non c'entra lo scudino. Eh, le fischio. Aia! Ma allora Liezzar? Che cosa fa? Mi ha spinto di cattiveria sulle fiches. Eh, ma le fiches. Beh, non è male, no? Ti va bene. Ma sono incredibilmente lento. Che succede? No, ma è effettivamente a sto pezzo. Ehi! E' stato attento che qui ci sono le zone che rallentano, eh? No, no, ero in mezzo alla strada, ma, Moro. Blowfish! Aia! Niente. Oggi! Com'è che sono sempre decimo, a prescindere da cosa faccio? Ma dai, mi sono preso io il tornado di un altro, che palla. Eh sì. Sono secondo! Ma bastardo! Marco, vieni qua! Per favore. Che vuoi? Sono ottavo. Ancora più indietro mi devi mandare. Ma te, non sei sodico tu. Fan cura, Giorgisprotti. Va bene, facciamo team io, te che siamo disgraziati, anziché spingermi. Ma che team è team? Ma con me, alcune cose vanno a rando. Tu sei fatti. Qui sei primo, in mezzo secondo sei in un altro gioco. Ma adesso non sempre nonno e decimo, non so. A presenza prima c'era riuscito qualcuno mi ha spinto. E Pierpollo, fanculizzati. Ti è Pierpollo, fanculizzati. Quanto Pierpollo, povero Pierpollo. Mi dava le bolle. Ahia! Eh, va bene. Il primo è andato però, è il primo e non lo raggiungo. No, mai più. Pierpollo, siamo due ragazzini. Quanto lenta sta zona però. Vediamo di... Oggi mi ha regalato il lui, io, tra l'altro Pierpollo. Ma guarda, non mi dà neanche il... Ma che vostro che hai mandato? Solo perché sono una donna. Eh, qualcuno è all star. È Korn, è all star. È Korn? Anche Korn? Ma c'è Korn? Da quanto? Che palle di spacco la parte. Korn, per favore, ho trovato la brasilena. Ti pago in brasilena. Cosa? È una cosa calabresa, non lo sai tu. È inglese. Oh, oggi non... Cioè, non so che cosa sta succedendo. Sinceramente. Sì, sì, oggi non so cosa sta succedendo. No, in questa mappa, intendo. Non so cosa sta succedendo. E lì, sciogli il zordo. Ah, sì, tu quello dietro. No, no. Eh, mi salite, hai visto che seguiamo gli unici due insieme e poi basta. C'è il vuoto. Fa un culo, Gerry Scott, ti lo sapevo. Che disgraziato, questo non stavo leggendo la foto. No, no, fa un culo. Mi sta continuando a colpire con mille robe, ogni volta. Senti, chi è? Chi è? Il Gerbon. Ah. Il Gerbon. Grazie a te, nozze. E dopo la leggiamo. Dopo la leggiamo. Guarda, guarda, terzo, non... Terzo, sono passato sesto. È incredibile. Ma terzo sono io da sei giorni, sono. Ma infatti, come è possibile, Mark? No, ero terzo, ti giuro. Ma come è possibile? C'ero io. Forse ero quarto? Sì, può essere. Ma qua è stato un attimo terzo, perché l'ho visto. Ma come è possibile? Ma è già finita, eh, porca puttana. Sono settimo, niente. Non si può dare finire. È randomico. Io oggi, oggi, ho posto la terza posizione, niente. Dai, secondo non è male. Madonna. Che merda, ho giocato in questa partita. Io mi do allipica, allipica. Settimo. Ci rinuncio, va bene. Mi odia questo gioco. Facciamo da spagnia, non importa, non importa. Anche se guido bene, non va bene comunque. Guido male, non va bene comunque. Mi sparo nelle ginocchia. Cosa devo fare? Guido Meda e non va bene comunque. Ma tanto, cosa ci vuoi fare? Non lo voglio dare in testa. A chi non mi va? Dice Pirchio. Pirchio. Grazie mille. Grazie mille. Ma intanto c'era la donazione di Gerdon 93, che ha donato 3 euro. E dice, Mark, anche se non stai vincendo, questo è un piccolo incoraggiamento. Ah, mi è scappato, c'è Solange. Solange, vai via un attimo. Prima o poi tutti si buggano. Prima o poi tutti si buggano e arrivi primo. Anche se ti voglio bene, moro culo. Ma stronzo. Ma stronzo. Grazie, grazie. Intanto, Solange, 2 euro. Ciao, termopistone. Vi consiglio di provare Planetside 2 tutti insieme. Vorrei tanto vedervi giocare uno dei miei giochi preferiti. 2.d. Planetside. L'ho giocato per un po' con Davide. Tipo, prima ancora riconoscerei termos. Eh no, cambio... Eh sì. No, cambio il giocatore. Facciamo ancora un paio di gare. Poi, andiamo la palla a gatto che faremo. No, Xime. Xime, anch'io vi voglio bene ma non è possibile. Xime, il gioco mi odia. Lasciami il mio ruolo. Il gioco mi odia, non posso farci niente io. Tanto, slot macchine. Un botto di soldi per l'altro ho vinto. No, no, fanpass, ti sei accanito un bel po'. Fa' il culo. Ma Solange, la sorella di Beyoncé. Sì, ma Abigail, dove cazzo vivi? Scusi. Che cazzo sono? Ah, Shogun. Ma sempre sta signorina di merda a me. Per forza perdo. Ma io sono Ralph Spakka i Ruf. Guardate che forte, Ralph. Ah, oddio. A me non piace. Però è bello perché mi piace il cartone. Non ho preso neanche... Va beh, ragazzi, però, dai. Cosa c'ha? Va bene tutto. Ma quello si lamenta, eh, spunto? Ti dico tu, eh, spui? Non ti stai lamentando veramente, no. Va bene tutto, vi state spingendo, vi fate tutto, guarda. Io voglio arrivare primo, massacrarvi, non posso. Ma almeno vedono un po' di spettacolo. Perché arrivi primo, che sono sempre dal settimo in basso. Spettacolo, spettacolo. Siamo tutti ammassati qua, no? Questa cazzo. Guarda, sono terzo. Me lo godo perché tra un po' arriverò nono, lo so già. Intribe la godo. Intribe la godo, sì. Guarda, che si è schiantazzo tantissimo. Ciao, Mark. Ma guarda che sono veramente dei maledetti, comunque. Vervamente, guarda. Ma non mi ha dato il cacchio. Perché non mi ha dato il boost? Oh, beh. For te, questi, ti ebbe, cacchi, questi cazzi. Ah, c'è sei rispotti prima. Sì, vai. No, sono io primo. Ah, è vero. Non mi avrete mai. Ti e... Beh, sei lì davanti, non è che sia... Ma fa il culo, davvero. Fa il culo. Due te tre ci ha colpito. Eeeh. Ma dai! Oh, bitch! No, non attacchiamoci qua, dobbiamo andare a prendere morto un po'. Ma cosa non attaccatevi? Non può vincere. Oh, me merdi! Hai noto, quanto sei? Facciatemi in più urlo. Io, quarto. Ah, io! Sono dietro a Mark. Sto sparato a morto. Cioè, voglio dire davanti a te. Eh, dobbiamo prendere morto, dobbiamo prendere. Andiamo a prenderlo. Sto male destri. Ho sbattuto! Dai, ero secondo, sono secondo. Dai, per favore, lasciatemi qui. Ti pago in natura. Dai, secondo, di mano. Che dolore, quinto. Sì, dai, zitti. Amici, tifatemi perché... Ho mandato il macchino, sono setto, sono setto. Le schivo tutte, le ho schivate tutte, è un me merda. Le api si stanno alzando il pe... Moro, ti vedo. Moro, ti vedo. Non mi vedi. Ahia, sono secondo. Madonna, sei lento, sto shogun. Quanto, quindi, ma cosa succede? Ma lo so come l'ho, uno di più veloce. Ma non è vero, non dire. Non come gioco io, a quanto pare. Eh, non come gioco io. C'ho lo star più potente di tutti. Eh, arrivare ad avere uno star, sai. Per averlo star, deve essere ultimo, quasi. Dio, anche sto sham di giuro, mettetevi. Fanculo, Gerry Scotti. Fanculo, dai, però! Ma smettete, Ghezzar? Ma non è lì. Ciao, Ghezzar. Dai, che fai? Eh, scusa. Mamma mia. Che performance questa. Che cazzo. No, davanti alla stella, però, maledetti. Lo sta urlando al pubblico, non lo capisco. Eh, il tuo nome. Andiamo. Eh, non so come mi chiamo, mi spiace. E tu chi sei? Tu. Allora. La signorina con i capelli rosa che guida una supporta. Va bene, da seconda a ottavo, nel giro di dieci secondi. Va bene. Porca, puttana. Guarda che roba! De la rispedisco la macchinina a chiunque sia stato. Eh, ultimo sono, perfetto. Da più, allo staranno. Sono io primo, Abby Gage. Eh, ormai, ormai l'allstar è troppo, è troppo avanti. No, ma almeno per arrivare tra i primi. Porca, puttana. Ehi, sono i primi. Ma guarda, mi sfiorano, mi sfiorano e mi rallentano. Non capisco perché. Marco, sei il secondo? Marco? E' zì. Allora, bruttissimo. Ho sbattuto, stai zitto, ho sbattuto. Stai zitto, sono terzo adesso. Amici! Ah, per una volta che arriva primo. Amici! Che tempo fa, Cormano? Io sto sbattendo come uno schifoso maledetto, proprio. Non mi dà l'allstar, è incredibile. Ah, ma... Ah, è già. Chi è? Eh, va bene. E Grignani! Come Grignani? E Gian Gianni Castoro, che lo leggo qui mentre vinco la vittoria. sei mesi e si guadagna il forno a legna. Eh sì. Grandissimo, Gian Gianni. Ma al contrario davanti alla stella, veramente. Sono terzo. Ma che vergogna. Perché mi ha parlato Moro, se no rimanevo secondo. Guarda. Per forza non ha funzionato, perché avete detto forza Amrk. Non mollare, ha scritto Sir. È vero, è per quello. Niente, oh, niente. Mamma mia, vedete che non vi deludo, eh? No, ragazzi, non è questo gioco. Questo gioco è vergogna. Voi avete creduto in me e io vi ho ripagati. Voi che siete lì dall'altra parte dello schermo e mi avete tifato. Io vi ringrazio. Grazie a tutti, cacchio. Io invece sono maledetto il gioco. Sono crashato adesso. No, no, sei crashato, sì, sì. Ma che cazzo. Bene, bene, allora, con il deficiente lì non c'è più. No, Dark Mark, grazie. Ma tanto, grazie, Wicked, tu sei bellissima. Wicked, stavi con Moro, quindi, tu. Ma allora. Eh sì, scusa. Ma come? Vedete, quello lì è crashato e non c'è più. E niente, è morto. Ah, è utile che mi censurate, qui c'è, no soul in me. Facciamo ancora uno, eh? No, c'è no soul in me che dona due euro che dice mi erano avanzati sti soldini sulla carta. Li volevo dare al gatto, poi però ho letto il titolo della sua live. Che titolo c'ha? Cosa ha fatto? E non lo so, non lo so. È scritto no soul in me. E tra l'altro dobbiamo andare a giocare con lui, quindi siamo... Pene si chiama il titolo, vabbè. Mamma mia, infatti le Doritos... Ma anche Vale, Ricomoro. No, eh. Grazie, Vale. Che è Wicked che Vale, Ricomoro? Ma Mary, ma stronza. Grazie, Ramona, grazie. Vedi, vedi qui che si vede il vero affetto. Quindi per me, non solo arrivo l'ultimo, ma non ho manco l'affetto io. Allora, facciamo così. Facciamo così. Io sono imbarazzato. Chiudiamo qui adesso, passate al gatto, se volete. Chiudiamo qui, con tutti. Adesso, per i sub, guardate l'email, che vi arriva il video. E a domani mattina. Alle 8 con non si sa cosa. Ciao. Ciao, ciao. No, niente ciao. Ciao. E Marco è deficiente. Vi va di traverso il tè, stasera. Ma... Vabbè, se non bevete il tè, non c'è problema. Non c'è problema. Non c'è problema.